No 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 no, non ci credo, quattro tiri a zero in porta, tre a zero, anzi tre, questo è il tre giusto, tre, tripletta di Ronaldo ragazzi, tripletta Ho fatto bene a guardarmela da solo perché non avrei retto lo Juventus Club, veramente, perché avrei dovuto prendere a sberle tutti quelli che criticavano Allegri E gli puoi dire quello che vuoi, ma se partite qua, ragazzi Spinazzola ha fatto un partito Emre Can, che partita ha fatto Emre Can, Berardeschi, se segnava quel gornio rovesciato, un assist incredibile, Ronaldo tripletta Anche Bonucci ha fatto qualcosa di buono, a parte quando si è perso Morata Ragazzi, veramente una partita incredibile, incredibile, assurdo Io auspicavo una partita uscire ma a testa alta con una partita fatta di carattere, di tecnica Oh ragazzi, non hanno toccato palla, non hanno toccato palla Ho avuto paura del 3 a 1 Giuro, avevo pronosticato il 3 a 1 E lì sarebbero stati guai Cioè, sono in maniche corde perché ho la scella pezzata Ho la scella pezzata, ragazzi, sto veramente morendo Chidira Video brevissimo perché sono tutto elettrizzato, poi ho bevuto anche un caffè Partita perfetta Queste sono le partite perfette E Mercian terzino, terzo di difesa Centrale, ha fatto tutti i ruoli della difesa del centrocampo, li ha fatti due Cansello destra-sinistra Che al primo tempo Cansello non ha azzeccato un pallone Secondo tempo ha giocato alla grande Peccato il gol di Bernadeschi che non c'è stato Perché se la sarebbe Ma ha veramente meritato alla grande Chi mi dite sangue, sanguina In Champions vuol dire che si vince E' sempre così Grandissimo, veramente Una partita Spinazzola, ragazzi Spinazzola ha fatto un partitone Non l'hanno mai preso su quella fascia Avrà Avrà fatto Dieci, quindici tribuni Tutti i venti, forse tranne uno Una volta gli alamperi Assurdo Assurdo Queste sono le partite Moise Ken Quando ho visto quel pallone che non entravo ho detto Oddio qui è finita E invece ragazzi Poi chi che giocava non mi ricordo più niente Sono completamente andato come se mi fossi drogato Pjanic, Pjanic ha giocato bene Quando ha iniziato a giocare male ho detto Comunque caricherò anche la live reaction qua su YouTube L'ho fatta su Twitch Con un buon seguito anche Io non so più cosa dire Io vado a festeggiare Festeggiare? Vado a letto che sono stanchissimo Domani mi ha d'alzato a testo Comunque mi vado a vedere tutti i video Gli highlights I commenti degli sportivi Gabbo, M.C.K.Wolf Tutti gli juventini Kinoshi Colpo Gobbo Airway Airway Se ne dimentico qualcuno sicuramente Ah JS che fa le reaction Benve che fa le reaction Veramente domani vi carico anche la reaction qua Non se la vedrà nessuno Abbiamo vinto Abbiamo vinto 3-0 3-0 triplet di Ronaldo È salito in catena La Champions Non è più Champions League Ma è Ronaldo League Basta Poi possiamo anche uscire alla prossima Becchiamo il porto E usciamo come dei cretini Vi saluto Buona serata Fino alla fine Foglio Foglio